Si rinnova l'appuntamento con Bocce Forum, buonasera a voi tutti, ben ritrovati, buonasera a Carluccio Martignoni, buonasera a tutti, non parliamo di politica perché è entrata parecchie volte in questi mesi la politica nelle bocce con le elezioni e con i cambi della guardia nel Comitato Rivarese che è ancora commissariato e ci saranno le novità a breve giusto Carluccio, ma parliamo di bocce giocate, partiamo dalla categoria più alta ovvero dalla Serie A con l'Alto Verban, si è giusto fare un riepilogo di tutto quello che succede sui campi della provincia e anche fuori, l'Alto Verban ha giocato sabato scorso in casa ad Averio e sapete che adesso si gioca ad Averio e ha ottenuto un buon risultato perché un 1-1 contro la prima classifica, la Beauville, è stato un risultato eccellente, non c'era, non ho potuto vedere perché ci sono altre cose al sabato che riguardano la mia società, però sono convinto che era un compito difficile, pareggiando è stato già, ha bloccato intanto la capolista perché se si bloccano quelli davanti vuol dire poi poter avanzare poi in classifica. Lei ancora è verso metà classifica, speriamo che ci sia un girone di ritorno poi un tantino migliore che possa fare la differenza di fila a piazzarsi, ma hanno perso tutti, hanno perso sia la seconda che la terza, la prima pareggiata, la seconda e la terza hanno perso. Ne ha guadagnato un po' di terreno. Sì, diciamo un po' di terreno e speriamo che continui questo trend che è importante per la nostra società vadesina. Non renderebbe più spettacolare secondo te Carluccio inserire i play-off nel campionato di Serie A, magari con quarta contro prima, seconda contro terza, semifinale, finale, così, la butto lì. Certamente sarà, beh intanto quest'anno funzionerà così, ma già è previsto per l'anno prossimo due gironi, l'altro, il settentrione e il meridione. Questa è una delle cose che sicuramente si farà perché è assurdo fare queste trasferte lunghissime, andare in Sardegna, da Varese e rispettivamente all'Aquila, a Roma, quando invece ormai le squadre ci sono, si fanno due gironi e poi si farebbero chiaramente i play-off che sarebbe poi uno spettacolo in più. Certo. Certamente, ma sai, far la trasferta con i play-off perché sei già davanti è una cosa, quando fai la trasferta e sei penultimo, ti costa e non hai grandi soddisfazioni né di pubblico né di, insomma, sono solo costi. Pertanto, e questo sarà, il futuro del campionato sarà sicuramente migliore perché quello che si sta facendo poi nel campionato italiano per società normali e si parte facendo la regione e del resto noi in provincia abbiamo tantissime squadre che partecipano. Anche Malnate, no? Anche Malnate, con due squadre, una di C e una di B, così, mediamente, con comportamento è mediocre per adesso, non è ancora a uno stato di grande qualità, però penso più avanti si possa trovare ancora, perché ci sono i gironi, però i gironi si fanno in Lombardia, si va a Bergamo, si va a Cremona, si va in Valtellina ed è bello anche confrontarsi con queste società, loro vengono da noi, noi andiamo da loro e questo è un sistema giusto questo, questo è un bel sistema. Poi chi vince il girone va in finale e poi si arriva a Roma o dove ci sono le finali. Si aprono gli orizzonti italiani. Lì cominciano a essere, del resto la Malnatese ha già partecipato quattro volte alle finali di questi campionati, vuol dire che siamo abbastanza ben messi. A proposito di Alto Verbano e di boccia ad alto livello, secondo te, proprio per quello che stai dicendo, col fatto che hai detto per società normali, tra virgolette, oltre a quelle, diciamo, di lusso, d'élite, ci sono questi campionati, chi vedi sotto l'Alto Verbano come società che può crescere nella nostra provincia, intendo, e può arrivare ad alto livello? Non dico a livello dell'Alto Verbano, ma poco sotto. No, diciamo, è complicata la storia, perché l'Alto Livello diventa praticamente... Si, un lavoro anche. Eh sì, diciamo, devono avere almeno due giocatori di alto livello in formazione che hanno un costo e poi una struttura che deve essere molto ampia, molto forte e a Varese, nei Varese neanche a Busto, non c'è. Attualmente non c'è una società che possa competere con l'Alto Verbano. Buone società, che hanno dei buoni giocatori, ma non a quelli... Non ambiscono neanche arrivare a... Assolutamente. Anche perché è un costo, lo sappiamo. Assolutamente. Noi siamo fortunati di avere una squadra in Serie A ad alto livello, oltretutto che ha vinto anche il campionato italiano, perciò vuol dire... E questa è una cosa che non è da tutte le regioni. La regione lombardiana è a due e questo è già una bella cosa, la caccialanza e l'Alto Verbano. Ed è uno spettacolo perché andare a vedere giocare questi campioni è tutta una cosa... Ma noi abbiamo... La Malnatese ha un programma ancora di fare quella famosa gara che ha fatto l'anno scorso per il novantesimo e avremo 48 giocatori ad alto livello tra agosto e settembre. Stiamo ancora stabilendo un po' le date. Lo svegliamo, poi lo dirai... Ma quello sarà sicuramente un grosso scoop ancora per le bocce varesine. Noi vorremmo avere sempre Macecchini qui, io te lo ricordo. E Macecchini resti io a venire, lui è quello che... Io lo porterei volentieri, ma lui lo conosciamo tutti, lo conoscono tutti. A Varese sicuramente. È un uomo particolare, di simpatia pazzesca perché con lui si sta bene. Assolutamente. Ci si gioca volentieri assieme, si mangia volentieri assieme ed è veramente un personaggio unico nel suo genere. Sicuramente. Altri risultati, prossimi appuntamenti. Tanto volevo dare la classifica, perché sono belle queste classifiche. Bene, il risultato della gara nazionale di Lecco che è stata da Luciano Manara di Domenica e chi vince sempre lì, vince sempre Formicone. È sempre lui, è un fenomeno e continua ad esserlo. È abbattuto un altro che è stato fermo per molto tempo per motivi di salute, adesso è tornato ed è stato tornando ancora in Mirko Savoretti. E i nomi sono sempre quelli che girano alla fine. E se andiamo a vedere poi la classifica ad alto livello dell'inizio della stagione, fino ad ora, c'è in testa ancora lui Formiconi, con De Nicola secondo e Nanni terzo. E sono dei formidabili giocatori, tutta gente di campioni mondiali. Di ormai parecchiani sono al top. Di campioni europei, sì. Anche nel femminile c'è una bella classifica, la Elisa Luccarini che è una campionessa ormai conclamata, e la giovane Bracconi e anche la giovane Morano terza. Sono quelle che stanno facendo delle belle cose a livello femminile, bisogna farle, dargli spazio anche a loro veramente, perché bisogna fare in modo che ci siano più gare femminili. Purtroppo non è sempre facile. Non sono così tante le tesserate, lo diceva anche il presidente De Santis quando è venuto qui. Certo, certo. Anche se è un movimento in espansione. In espansione, specialmente adesso che c'è la Gantarini come direttore tecnico, Germana è brava, però insomma ci vogliono le forze nuove che non è sempre facile. Del resto noi non abbiamo l'aiuto delle scuole, o abbiamo poco aiuto delle scuole. Le scuole danno pochissimo spazio e poi ci sono delle regole particolarissime che non sono molto facili da sviluppare. Abbiamo molte società che vorrebbero poter avere le scuole che diano rapporto ai giocatori e ai giocatrici nei loro campi. Sono costose queste cose perché dalla scuola, malnate per esempio, dalla scuola media arrivare al bocciodromo sono 500 metri, ci vuole il pullman. Non si può farli passare a piedi, i ragazzi. C'è un marciapiede enorme, grande, spazio. Sì, diciamo, c'è un problema in logistici e burocratici che non si immagina neanche. Il direttore didattico non si prende la responsabilità di lasciarli uscire senza una sicurezza. Vuol dire andare a noleggiare un pullman che porti i ragazzi. Ma questo è già il costo per avere gli istruttori e gli impianti a disposizione. E in più avere anche quello. E lì purtroppo c'è una... abbiamo parlato anche con il presidente De Santis e anche lui dice bisogna trovare le soluzioni. Saper che poi le soluzioni sono più facili da noi diventano sempre più complicate. Un grosso punto interrogativo. È un grande punto interrogativo. Comunque per quanto riguarda le donne, Carlucci, aspettiamo qualche donna qui in studio. Che è un po' di tempo che... Sì, io vorrei venire qui Germana Cantarini che è la nostra direttore. Così ci parla anche un po' del movimento in generale. Ecco, ogni tanto la chiamo. Il momento in cui... Lei purtroppo, per fortuna, lavora ancora a un negozio. Per fortuna. Per fortuna. Dobbiamo vedere un po' se riesco a farla venire. E' un'ottima cosa perché è il massimo esponente. Certo. Anche campionessa del mondo per tantissime volte. Campionessa europea per tantissime volte. Sì, carino anche parlare della sua storia. Oltre che del presente, del futuro delle bocce femminili. Altri numeri, altre news. Sì, ci sono tre gare in atto. Sono... C'è la gara della Cuviese. Leggo perché non ho la memoria. Non è sempre... Ecco, il trofeo Cuviese che ha avuto un bello successo di iscrizioni. A coppie. C'è il direttore Domenica Gatta. Sta funzionando. Le finali saranno il 15 di febbraio. Poi c'è la gara di San Cassano che termina proprio stasera. Anche lei 12-15 gironi. C'è De Mosvaldo che la sta dirigendo. E la classica gara di Crenna. Crenna fa le gare a ripetizione. Ormai è come un mitragliatore. Finisce una comincia l'altra. C'è Enrico Piotti che continuiamo a invitare qui ma fa una fatica a voi a venire. Non riesco a capire perché. È così comodo e tutto. Ne sa tante di cose. E lui sta facendo un'altra gara con la bellezza di 200 formazioni. 7 batterie di A, 10 di B e 8 di C. È una cosa pazzesca. Numero altissimi, sempre a Crenna. Del resto però il centro Crenna lo consente. Lo consente proprio per la sua posizione logistica. C'ha tutto Novara, c'ha tutto Milano con l'autostrada. C'ha tutta la nostra zona. Pertanto diventa facile. Non è marginale. Non è come andare a Bedero. Insomma a Bedero non c'è il bene che gli si vuole a quella società. Però è un po' più marginale. Un po' più scomodo sicuramente. Ecco, questi sono i momenti di bocce che ci sono in questo periodo. È un movimento sempre continuo. Sì, sì, è chiaro. Parlano i fatti, non è quello che diciamo noi. Quando il federale sta analizzando il fatto di aumentare i contributi, è proprio perché la Lombardia fa quasi il 40% di tutto il movimento boccistico nazionale. Insomma, l'altri se lo dividono in 60. Però insomma c'è una sostanziale differenza. Questo dimostra che ci vuole qualcosa di più anche alle nostre società. Siamo in chiusura. Brevissimo. Ti chiedo cosa succederà, perché sappiamo che è commissariato il commentatore di Varese, l'abbiamo detto settimana scorsa. Ricordiamo la data. Sì, al 9 fa la chiusura delle liste. Ok. Al 9 di febbraio. E al 26 le elezioni avergiate. Perfetto. Ecco, dopo il 9 il candidato presidente che sarà, poi si metterà, che è in lista, non so se ce ne saranno altri, ma Guido Bianchi, verrà in televisione qui da noi a esporre il suo programma. Grazie Carluccio. Grazie a voi. Grazie a tutti voi per averci seguito. Ci vediamo settimana prossima, sempre di Venerdì, intorno alle 21.30 con Bocce Fonum. Buona serata, buon weekend. Arrivederci. Grazie a tutti.